Ehi boys, nuovo video! Oggi facciamo la sfida, se provo a costruire il video finisce. La facevamo già tantissimo tempo fa, era tipo la terza sfida che spieci, però ora con la no build mode, secondo me è divertente. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e andiamo in game! Allora, indicativamente, questa sfida non dovrebbe essere difficile. Non lo so, mi rendo conto che lo dico all'inizio di ogni sfida, va bene, sì, però stavolta davvero non dovrebbe esserlo, perché non gioco alla modalità build di Fortnite, quella in cui si può buildare. Ma raga, da mesi, cioè, da due mesi ormai, ultimamente le uniche partite che mi sono fatto su Fortnite erano sulla no build, quindi mi farebbe strano che all'improvviso io voglia iniziare a costruire. Certo, ancora mi capita ogni tanto, perché parliamo comunque di avere alle spalle 3-4 anni di Fortnite col building. Però, a parte questo, cioè, per esempio, devo ammettere che ora mi stava venendo l'istinto di costruire una scala, ok? Non è rincuorante, però non è tutto male sommato, cioè, non è tutto, non è male tutto sommato. Vabbè, vieni qua, lurido! Scusatemi se per un secondo sono divenuto incapace di parlare, ma ero distratto, come potrete ben immaginare. Ci siamo eliminati a vicenda. Ora, su Fortnite ci si elimina a vicenda, ok, ok. Va bene, gioco! C'è un problema, mi sono lendato male, molto male. Però, però, non ci perdiamo d'animo. Ci butteremo in una zona un po' più tranquilla e spereremo, boh, non lo so, credo, in qualche forza divina. Il fatto è che, devo essere sincero, secondo me questa sfida è fattibile. Cioè, abbiamo fatto molto di peggio, ragazzi, veramente molto di peggio. Una vittoria ce la possiamo tranquillamente portare a casa in qualche modo. Non devo costruire! Volevo piazzare un pavimento. È una costante di voler costruire cose, però riesco ad avere un buon autocontrollo, devo essere sincero. Cavolo, hanno lanciato un air strike lì. Ok, vabbè, noi ignoriamolo. Stanno fai dando lì. Devo fare in fretta. Quanta gente c'è? Ok, combat, mono, cura, in realtà fucile d'assalto. Cura, via, facciamo così. Perché? Non fai tate, smettetela, perché? Perché succede questo? Mi spiace, bro. Ma io devo andare. Ho proprio voglia di prendermi il drumshot gun di sto tipo. Bel colpo. Bello, no, no. Proprio bello. Ma sto laggando un po'? Sì. In realtà mi sa che sto laggando proprio io. Mi serve un assalto migliore, dai. Questo? No, quasi quasi mi tengo l'augo a sto punto. Ok. Bella, bra. No, GG, well played. Complimenti. Ottima scelta di mosse, di tutto. Ok. Non so perché ci siano così tanti nemici tonti oggi, ma non mi farò problemi. Ah, peccato. Ok. Ok. Mi conviene andarmene in fretta pure. Grande, brava. Bella mossa. Dentro. Uh. Ok. Non ti zio, raga. Come lo sono immaginato io. Forse era solo il corvo. Sì, era solo il corvo. Non era solo il corvo. Lo sapevo bene. L'avevo sentito. Vabbè, ragazzi. GG. Peccato. Eh, ero focussato. Allora. No, no. Volevo costruire. Volevo costruire.